Oggi va a casa, tipo blu scuro. Ma ce la fai? Sì, sì, ce la faccio benissimo. Comunque, se ti serve il telefono, calcola che l'ambulanza ci mette quattro minuti ad arrivare, eh? Dai, scherzo. Hai visto la carta con le bolle? No. L'ho utilizzata tutta per incartare i miei dischi. No! Che succede? No, ma che ci portiamo dietro pure i Matteo Bazzar? Se contesti i miei Matteo Bazzar, metto in discussione tutto quanto le tue annate di moto e motore. Matteo Bazzar? Oh, beh. Scongerà hamburger e patatine? Ok. Ok. Cri. Eh? Ma non ti dispiace un po' lasciare questa casa? Sì, mi fa un po' strano. Siamo stati bene qui. Nonostante tutto quello che è successo alla mamma. Sì, anch'io pensavo a lei. Secondo me adesso è contenta di come ha fatto che restare la sua bambina. Eh, che tra un po' mi raggiungi, eh? Non diceva con quel senso. E anch'io diceva con quel senso. Senso. Autore della verità. Sono significa che, come ho, mi raccomando bene la sua bambina perché resta una lんだ. Come ho, mi raccomando bene la sua bambina. Sono le periodona di una marco. Ma non preoccup Resistance economica. So, progressing Pacastanza ha fatto che resta meno avanti come fa. E allora, un po' mi raccomando è lo sc�ardo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.